buona giornata amici oggi è martedì 27 luglio 2021 siamo qui per la lettura dei giornali con le notizie del giorno come sempre tratte dal resto del carlino e dal corriere adriatico ma prima passiamo al santo del giorno e al meteo il santo del giorno è san celestino primo un papa un papa che ha regnato la chiesa diciamo regnato la chiesa nel 422 ovviamente dopo cristo ed è stato un periodo un po turbolento con dispute con i vescovi africani poi c'era il concilio insomma erano i primordi della chiesa e papa celestino primo si è distinto appunto per cercare di avocare insomma a roma l'autorità ecclesiastica e passiamo ora al meteo vediamo che le condizioni del tempo sono un po incerte il cielo non è completamente sereno vediamo che ci sono delle nuvole e anche qualche così goccia di pioggia sulla costa e sull'entroterra vediamo che la giornata dovrebbe essere un po alternata quindi ci sono momenti così di tranquillità e momenti di pioggia e qualche spolveratina insomma di acqua non farà male per almeno supplire a questa siccità e comunque non sembra risentirne dalle pioggia dei giorni scorsi bene ora passiamo al nostro collegamento se ci riusciamo con il bagnino andrea bazzani dello chiale a morino di porto san giorgio e eccolo eccolo l'abbiamo buongiorno andrea buongiorno ti vediamo in penombra oggi il tempo è un po scuro sì è parzialmente nuvoloso ma sta uscendo il sole quindi una giornata dove ci saranno bagnanti in spiaggia oppure sarà un po deserta cosa pensi penso che questa mattina poca gente nel pomeriggio quando esce un po più di sole verrà più gente la spiaggia è umida oppure asciutta cos'è spiaggia di sabbia non non di sassi vero spiaggia di sabbia non sono sassi sì sì la grande fortuna di porto san giorgio la sabbia di sabbia di sabbia beh a senigallia si dice che c'è la spiaggia di velluto a porto san giorgio come si definisce la spiaggia non saprei però è molto bella beh inventiamo inventiamo un aggettivo una spiaggia non so soffice come un tappeto va bene va bene ok senti e due parole solo per diventare il bagnino non è che si improvvisa questo mestiere cosa ci vuole oltre alla vocazione seguire un corso di istruzione di formazione ci vuole tanta tanta passione e poi a seconda di come uno vuole sviluppare il proprio stabilimento valneare ci si può specializzare in variati settori e tu come si è diventato bagnino è stata una passione oppure una tradizione di famiglia è stata una tradizione di famiglia perché questo nostro chalet io e mio fratello siamo la terza generazione che lo portiamo avanti benissimo io mi sono specializzato più per quanto riguarda il bartending e mio fratello invece è chef e porta avanti il ristorantino dello chalet ok andrea vediamo all'orizzonte è un po di chiarore quindi può darsi che la giornata sta uscendo il sole ok benissimo ti ringraziamo e ci risentiamo domani ciao ciao a voi buona giornata anche a te arrivederci bene amici ora passiamo alla lettura dei giornali a partire dal resto del carlino sulla pagina di pesaro vediamo la prima pagina con il riassunto delle notizie che poi sono così estese all'interno vediamo che si apre con la sanità sanitari novax si stringe il cerchio asuro ottocento nel mirino partite lettere a ordini professionali e datori di lavoro in vista dei provvedimenti insomma coloro che non vogliono vaccinarsi ma occupano posti di grande responsabilità come posti all'ospedale insomma infermieri dottori eccetera devono assicurare tutta la sicurezza nei confronti dei loro pazienzi e ora i sanitari novax insomma sono un po' nell'occhio del ciclone al centro del mirino e si cerca di indurli a vaccinarsi e poi vaccini nuovo boom c'è un po' una contraddizione apparente su questa pagina perché da una parte c'è chi insomma non vuole vaccinarsi dall'altro invece c'è una corsa al vaccino e questo è merito ovviamente dell'introduzione del green pass perché è l'effetto di questo certificato e la voglia di ferie che spinge tante persone a vaccinarsi sono 9 mila i prenotati in quattro giorni ho fatto lo sputnik ora per me il green pass è un miraggio ebbene chi ha fatto lo sputnik l'ha fatto ovviamente all'estero siccome questo vaccino non è riconosciuto dall'ema e l'europa non lo riconosce e quindi insomma non può avere il green pass in italia e dopo vedremo chi è questo personaggio che è noto che ha elevato questa protesta ammassati sul regionale e i casi positivi volati a quota 33 e la protesta e i numeri insomma e i numeri per quanto riguarda sempre la sanità bene vediamo all'interno la pagina del resto del carlino vaccini nuovo boom in vista delle ferie prenotazioni per 9 mila in quattro giorni grazie all'arrivo delle nuove dosi da oggi a venerdì sia pesaro che fanno e a urbino il calendario è molto molto fitto si recupereranno gli appuntamenti rinviati sabato e domenica qualcuno si è lamentato del fatto che l'inoculazione sia lontana e cerca di riavvicinarla per essere pronto per il 6 di agosto appunto per avere il green pass e poi pigiati in treno come sardine poi il picco di nuovi casi siamo a 33 la protesta questa di un pendolare per piacenza e i contagi crescono la nostra provincia è di gran lunga la peggiore quindi occorre stare attenzione ancora sanità sul resto del carlino sanitari novax bisogna convincerli altri 800 a parlare così il dottore augusto liverani che gestisce un po' il centro di vaccinazione del codma di fano durante una delle tante sedute vaccinali appunto è stato fotografato più della metà dei casi dei sanitari novax sono stati risolti per fortuna ovvero si è partiti con una platea di 1885 operatori non vaccinati e si è arrivati ad oggi con 808 soggetti ancora diciamo così sub iudice ovvero sotto giudizio sindrome di long covid 50 in cura un articolo di fondo pagina che evidenzia quali sono poi gli effetti di chi ha subito il covid non tutti guariscono dopo i 14 giorni di restrizione insomma di chiusura c'è chi si trascina gli effetti per lungo tempo si chiama long covid lo chiamano sindrome post covid o long covid che sono già più di 50 i pazienti che da novembre hanno dovuto entrare nel percorso riabilitativo dell'azienda ospedaliera di Marche Nord perché si trascinano dietro un malessere generale che va dall'astenia all'esaurimento muscolare che condiziona pesantemente la propria autonomia insomma un senso di spossatezza di stanchezza che fa sì che la riabilitazione insomma la cura non abbia avuto tanto effetto e lì la cosa insomma si trascina a lungo quindi la soluzione è sempre quella di vaccinarsi giriamo pagina e vediamo che ci sono ancora notizie sulla sanità ma in questo caso la vaccinazione non c'entra nulla vediamo che l'ospedale unico ormai è dietro le spalle c'è il no anche della commissione regionale regione il centrodestra e grillini assieme quindi un gruppo un gruppo di opposizione si unisce alla maggioranza è quello dei grillini per la questione dell'ospedale unico ma i pentastellati da tempo hanno condotto questa battaglia contro l'ospedale unico quindi sono coerenti con se stessi ebbene regione centrodestra e grillini assieme confermano l'affossamento del progetto ceriscioli va superata dicono la logica dell'accentramento si tratta del primo provvedimento di riesame del piano socio sanitario che ridisegna la logica della realizzazione dei nuovi ospedali non solo di pesaro ma anche di macerata e di san benedetto del tronto che non sono più ospedali unici il parere favorevole della commissione sanità rafforza l'idea che le scelte della precedente giunta vanno cancellate al più presto a cominciare dal project financing con il quale si è pensati di finanziare l'ospedale di muraglia insomma ormai questo cambiamento almeno fin quanto sarà in piedi la giunta di centrodestra in regione che poi sono cambiamenti che arrivano spesso dal giorno al mattino non si sa mai comunque durerà almeno e si porterà avanti questa nuova idea della sanità green pass al cinema in sala per ora puntini puntini e buio gestori sono disorientati dovrebbero loro stessi controllare l'esistenza di questo certificato quando gli spettatori entrano in sala però ancora le direttive non sono così precise si controllerà a partire dal 6 agosto giometti e parla l'operatore principe della cinematografia provinciale ma anche regionale giometti dice le linee guida non chiare noi verificheremo alle biglietterie e poi a solaris silvia ortolani dice ci segneremo le scadenze per i clienti fissi così sarà più facile andare al cinema comunque occorre avere il green pass e passiamo a piazza redi piazza redi che al centro di contestazioni c'è chi dice che è qualificata è stata qualificata nel tempo dalla giunta pesarese e chi invece reclama nuovi interventi così la maggioranza ieri ha respinto al mittente la proposta firmata la lega di inserire finanziamenti aggiuntivi per un progetto migliorativo piazza redi la riqualificazione già c'è stata l'ultimo intervento è stato fatto nel 2003 è il più grande centro commerciale naturale dopo tutto così l'ha dichiarato l'assessore enzo belloni che ha confermato che l'amministrazione deve fare la propria parte ma il sentimento generale deve essere quello di prendersi cura dei luoghi in cui si abita e questo è un è un consiglio generale che vale per tutti vale per pesaro vale per fano vale per gli altri centri delle marche perché se si ristruttura si qualifica e poi si distrugge di nuovo si vanifica l'operazione è stata fatta monopattini è il far west serve il pugno di ferro e anche qui c'è contraddizione c'è chi vuole una normativa più vincolante per quanto riguarda questo nuovo mezzo di mobilità molto alto molto molto agile facile da usarsi e c'è chi invece vuole normative più vincolanti è la richiesta del centro destra troppi parcheggi selvaggi e manovre spericolate dice ma replica l'assessore morotti ci sono stati a pesaro pochi incidenti e anche senza feriti quindi al momento la normativa rimane così com'è e poi voglio segnalare un fatto di cronaca che è un po' curioso diciamo così è una avvocatessa si è trasformata in robata per ritrovare il suo ex si tratta di una pesarese di 37 anni che si è calata all'alba dal balcone del quarto piano di un palazzo di piazzale primo maggio per cercare di entrare nell'appartamento del suo ex e di ristabilire il rapporto ma lui invece non ci sta e chiama la polizia prima ha preso a calci e pugni la porta poi ha visto che lui non le apriva si è calata dal balcone del quarto piano pur di entrare nell'appartamento appunto in piazzale primo maggio però ha rischiato di fare un bel salto nel vuoto conseguenze che potevano essere irreparabili per questa signora di 37 anni avvocato che ha deciso di trasformarsi dice il giornale in una sorta di uomo ragno per fortuna dopo la chiamata della polizia dell'ex che era all'interno tutto si è risolto per il meglio e non è accaduto nessun incidente però insomma il fatto poteva determinare gravi conseguenze accusato di aver depredato il balì ma niente prove assolto si tratta di fabio ipaso 52enne pesarese che era finito a processo per appropriazione in debita è stato denunciato dalle proprietarie di una villa del balì era accusato di essersi appropriato di tende cuscini mobili federe e persino pomelli delle porte per un valore di circa 20 mila euro a denunciarlo appunto le proprietarie della villa ma la settimana scorsa l'uomo è stato assolto per mancanza di prove e vediamo ora la pagina di fano dove l'apertura è dedicata a un caso che ancora deve essere chiarito in molti aspetti dalla casa del clero dalla casa del clero ora partono le denunce uno dei sacerdoti ospiti si è recato in caserma dai carabinieri per segnalare problemi nell'assistenza ma spunta anche una donna che avrebbe ricevuto aiuti ebbene ancora le indagini sono all'inizio e quindi l'articolo è un po' evasivo diciamo così però insomma alcuni elementi ci vengono dati che cosa che cosa è accaduto la casa del clero è una casa che ospita otto sacerdoti con sei assistenti sono quegli sacerdoti che sono andati in pensione ebbene uno di questi uno di questi che cosa ha fatto è andato dai carabinieri si tratta di donne luigi spallacci un personaggio molto noto a fano è andato dai carabinieri per lamentare che di notte non c'è una sufficiente assistenza per cui non si sa come fare nel caso in cui qualcuno dei confratelli possa avere dei problemi e ovviamente a questo punto è intervenuto anche il vescovo oppure intervenuto anche il vicario don marco prisciutti che parla anche della sortita dei carabinieri sui svolti c'è anche una donna che avrebbe una donna un'extracomunitaria che avrebbe ricevuto aiuti e non si sa se questi sono regolari regolari eccetera comunque è un caso ancora tutto da chiarire veniamo alle altre notizie vi ho anticipato prima nel riassunto della prima pagina che un operatore aveva ricevuto lo sputnik ma non può avere il green pass lo sputnik è il vaccino sputnik si tratta di roberto boltri roberto boltri che è un ex politico un ingegnere che lavora nel kazakhistan dove è stato immunizzato con il siero russo che in italia però non è autorizzato e quindi non può avere il certificato per assistere a spettacoli eventi entrare all'interno dei bar insomma tutte le prescrizioni che il governo ha varato in merito a questo nuovo vincolo canale albani senza acqua il comune apra i rubinetti la regione non concede la deroga così il comune attingerà i suoi pozzi la siccità si aggrava il livello dell'acqua del canale albani dove c'è una bellissima oasi faunistica cala e il comune interviene immette nel canale 3 milioni di litri d'acqua settimanali contro il mezzo milione finora assicurato acqua non potabile per la presenza di nitrati e provenienti da un pozzo che già è in uso dal 24 giugno scorso pozzo che ha consentito nonostante le elevate temperature le scarse precipitazioni di garantire il ricambio dell'acqua e l'apporto di ossigeno sufficiente per garantire la vita degli animali e ancora a mondavio welfare più facile attivare i servizi inaugurato in via roma il primo punto unico di accesso per le prestazioni socio sanitarie così le istituzioni sono vicine ai cittadini vediamo se riesco a mettere bene l'inquadratura eccola è stato inaugurato ieri mattina il punto unico di accesso socio sanitario è il pua di mondavio affano ovviamente è nel centro commerciale di santorso allestito nei locali del distretto sanitario di via roma il pua funge da punto di ascolto dei bisogni e fornisce informazioni e soprattutto attiva i servizi sociali in caso di qualunque necessità quindi è il primo ufficio di ascolto per coloro che hanno bisogno di una prestazione o segnalare un problema giriamo ancora pagina vediamo la pagina di urbino ecco la pagina di urbino servizi e aspes avanti con l'ipotesi di fusione prima riunione congiunta dalla commissione affari istituzionali del comune per parlare delle compartecipate e intanto parte oggi il festival piazze e il montefeltro è uno spettacolo ci sono tanti tanti iniziative per quanto riguarda dieci comuni del territorio nuovo polo scolastico assegnati i lavori entro la fine dell'estate partiranno i cantieri per a ferminiano per realizzare la struttura accoglierà più di 500 studenti delle primarie ebbene ora in fretta vediamo anche il corriere adriatico dove le prime pagine dove la prima pagina è dedicata sempre alla sanità e in modo particolare ai servizi prestati dalle farmacie le farmacie si scoprono hub forse non tutti sanno che in farmacia si può fare il tampone si può fare il vaccino e ora si può richiedere anche il green pass corsa a prenotare i vaccini a scaricare il green pass l'ordine mai così il lavoro è aumentato e si pensa anche ai turisti e poi alle manifestazioni notte delle candele nessun certificato e balli vietati le associazioni contro i furbetti regole uguali per tutti i richiami per quanto riguarda pesaro riguardano marche nord stop all'ospedale unico di cui abbiamo già parlato e poi monopattini pochi incidenti all'anno niente giro di vite e a fano il progetto pinqua a metà auriglia ha destato la soddisfazione di tutti i residenti subito all'interno più ricoveri si reparti saturi no la terza dose ora non ha senso è un intervento del virologo stefano menzi che è direttore del laboratorio di virologia degli ospedali riuniti di ancona e docente di microbiologia la facoltà di medicina e chirurgia dell'università politecnica delle marche insomma più ricoveri sì ci sono stati più ricoveri però insomma ancora i reparti sono largamente capienti per ricevere tante tante persone attenzione dunque perché il fatto che i ricoveri aumenti è una spia molto da valutare 5 camper pronti ma prima va riallenato il nuovo piano vaccini 5 camper pronti per fare le vaccinazioni e quindi sono degli hub itineranti girano nel territorio per cui nessuna persona deve restare lontana dal centro di vaccinazioni e l'ipotesi dopo l'impennata delle prenotazioni e viaggiare a 3 4 mila dosi al giorno l'agenda comunque va ricalcolata solo dopo si potrà iniziare il lavoro porta a porta nei paesi ciclovie sentieri e impianti da sci i progetti per rilanciare il cratere il cratere e la zona terremotata delle marche il contratto istituzionale di sviluppo 130 richieste per 900 milioni di spesa sono un po sogni e un po realtà i sogni dei paesi saranno realizzabili anche con il fondo complementare del pnrr che sono fondi regionali e poi trincea per la nuova regione 126 pagine di emendamenti oggi e domani si discute la riforma della legge 20 che riorganizza un po l'assetto della regione e c'è però lo sbarramento del partito democratico e movimento 5 stelle che in questo caso non si è allineato con la maggioranza dalla parità di genere ai rapporti giunta consiglio 52 sono le richieste di modifica speriamo che questa legge renda più agile l'organizzazione della regione stessa sempre a pesaro per le candele niente balli ma regole uguali per tutti le associazioni chiedono al comune di tenere d'occhio i furbetti insomma la notte delle candele e la notte principe diciamo di questa estate pesarese per quanto riguarda l'afflusso popolare e si cerca insomma di contenerne gli effetti dal punto di vista della pandemia sulla pagina della valde foglia della valle foglia monbaroccio mano tesa le famiglie in difficoltà in scadenza le domande per ottenere le agevolazioni legate all'emergenza covid scadono domani alle 13 termini per la presentazione di queste domande che i cittadini possono presentare per ottenere contributi economici a seguito del calo di reddito dovuto alla pandemia ancora aiuti dunque per quanto riguarda gli effetti del virus a urbino si parla di politica in previsione delle elezioni centro-sinistra unito ma attenti agli esclusi per alcune liste e partite non ci sarà posto nella coalizione di centro-sinistra centro-sinistra cerca a urbino di riunirsi di essere un collante dopo diverse stagioni di insomma di divisioni però insomma la situazione è un po' ingarbugliata e vi invito a leggere l'articolo a fano misure di sicurezza sulla statale e 11 milioni del progetto pinqua gli impegni del sindaco con gli abitanti di metauriglia che sono sempre in agitazione per quanto riguarda la pericolosità della statale adriatica sud dopo il piano per la qualità dell'abitare si cercherà di intervenire anche sulla viabilità e poi ancora la politica sulla pagina di fano l'aset deve restare pubblica ora si ribella l'area di minardi e si ribella chi si ribella alla segreteria provinciale del partito democratico che ha posto sotto accusa coloro che hanno votato in maniera contraria all'una mozione rispetto al resto della maggioranza dura nota di 13 firmatari con due assessori e quattro consiglieri contro il pd provinciale e siamo in scadenza sulla pagina della valmetauro la città del tartufo si sfida a tavola con sei titolati chef sono riunite le città di acqualagna amandola a pecchio fossombrone pergola e sant'angelo invado è il tartufo award 2021 e con questo concludiamo questa mattina la nostra rassegna stampa sono circa ormai siamo vicini alle 7 e 30 e cediamo la linea alla messa nella santa casa di loreto poi per quanto riguarda l'informazione vi invito a seguire il tg delle 20 e 30 buona giornata grazie a tutti